in primavera i cieli del sud europa si colorano di viaggiatori venuti da lontano uccelli vivaci e dai colori sgargianti loro sono i gruccioni i gruccioni sono uccelli migratori lasciano sudafrica per riprodursi nelle aree mediterranee all'inizio di maggio dopo il lungo viaggio si radunano sugli alberi per un breve ma meritato riposo il periodo degli amori è iniziato i maschi si destreggiano in acrobazia aeree cacciando insetti in volo ricorteggiano la femmina offrendo la preda appena catturata c'è parecchio fermento nell'aria e qualche scaramuccia rafforza i legami sociali le femmine scelgono con cura i maschi non tutti sono fortunati e qualcuno è costretto a mangiarsi tutto solo il frutto dei suoi sforzi se la femmina accetta i donne offerti si forma la coppia e non mancano di certo momenti di intimità il nido è un buco scavato nella sabbia e la colonia nidifica su scarpate lungo i fiumi non c'è mai riposo e con la nascita dei piccoli i genitori devono cacciare molti insetti la fame è forte e un succulento calabrone può indurre in tentazione ma la femmina con un severo sguardo ricorda al compagno i suoi doveri la fine di agosto segnerà il momento di ripartire a breve dovranno affrontare il lungo viaggio di ritorno l'africa reclama i suoi figli a breve Grazie a tutti.